Benvenuti su Royal War Channel e oggi apriremo 13, ma dico 13, bustine, panini dei calciatori 2018-2019. Qua, come vi ho detto nel video di Pasqua, siamo in Trentino. Guardate che meraviglia! Eh sì! Una meraviglia fantastica! Ora, senza perdere tempo, apriamo, ma prima di aprire mettete like su e iscrivetevi al canale qua sotto. Direi di cominciare. Facciamo anche dei giochi, eh? Perché sennò dopo il video è noioso, non va bene, dai, facciamo anche dei giochi. Allora, qua, credo che ci sia dentro, pensiamoci, un giocatore del Chievo. Apriamo. Queste bustine le mettiamo in su, anzi, qui, e queste le scassiamo. Andiamo. Allora, troviamo Stracoscia. Scusate se rido perché sono allegro, perché mi piace il Trentino. Poi troviamo Capuano. Poi troviamo Dijks, Dijks, credo, del Bologna. Lo scudetto della Samp, per chi è, per chi ti fa la Sampdoria, volevo dirgli che mi piace lo scudetto perché parla di un pescatore genovese, infatti proprio con la pippa. Io lo chiamerei Popaie, versione genovese, per chi ti fa la Sampdoria, che li saluto anche. Poi troviamo tre giocatori della Spezia, Mora, Crimi e Ricci. E poi, ecco, le figurine. Allora, poi troviamo, secondo me qua troviamo un giocatore, Milan. E anche direi Zapata. Ah, tutti pensano a Zapata. Il grande Duvan Zapata, credo che si chiama Duvan. Allora, troviamo Marusic, del Lazio, che ce l'avevo già. Poi troviamo Siligardi. Poi troviamo Hugo. Lo scudetto del Napoli, che mi piace il simbolo, mi piace un sacco. Con quella N lì è bellissimo. Allora, poi troviamo lo stadio Giuseppe Meazio. Non abbiamo trovato un giocatore del Milan, ma abbiamo trovato uno stadio. Sapete che quello stadio lì deve avere al minimo tanti anni. Qua dovremmo, qua troveremo, secondo me, un a caso. Un giocatore del Cagliari. Facciamo Pavoletti. Balic. Mancini. Isag. Isag. Stefan Radu e Senad Lulic. E infine, la squadra del Parma, con il grandissimo Gervinio, che purtroppo la Roma l'ha mandato via. Ora, questo qua. Qua dentro ci sarà un giocatore del Sassuolo. No, ragazzi. No, ragazzi. Non crederete che cosa ho trovato? Cristiano Ronaldo! Anche se purtroppo ha perso la Champions, è bravo lo stesso. Zagnolo. Maschimovic. La maglia del Frosinone. E Sardegna Arena. Ragazzi, per chi ti fa la Juve, questa secondo me è una... Ronaldo portafortuna, eh. Bustina, bustina delle mie bravi. Fammi sapere che c'è... Un giocatore del Napoli. Cavolo, un altro della Juve. E... Pjanic. Che sa parlare anche il lussemburghese. Acerbi. Che è nato il 10 febbraio come me. E... E... Helander. Del Bologna. E poi troviamo... Tre giocatori del Brescia. Aspettiamo. Poi troviamo Hayemark. Oscar Hayemark. Ok. Qua dentro la bustina c'è... C'è... Berardi. Forse di Awara. Sì, abbiamo trovato di Awara. Il Pado. Kluivert. La squadra del Florentia. 2018-2019, ovviamente. Scavone. Petriccione. E Arrigoni. Tre giocatori del Lecce. Ah, ragazzi. Mi sono dimenticato di dirvi che... Per chi tifa il Cagliari. Per chi è della Sardegna. Sì. Vengono i giocatori del Cagliari. Poi viene anche il Napoli. E forse anche la Roma Pinzolo. Sì. Nel ritiro estivo qui a Peio. Allora. Apriamo. Vediamo. Qua, secondo me, c'è dentro un giocatore dell'Atalanta. Avevo trovato Sirigu. Seculin. Spolli. L'allenatore del Chievo Verona, che come vedrete nel calciomercato, ci sarà Ventura. Poi abbiamo tre giocatori del Lecce. Mancosu, Tabanelli e Falco. Del Lecce. Qua dentro c'è un giocatore del Torino. Apri. E no, è del Cagliari. Cragno. Soddimo. Oh, sì. Mandragora. Mandragora. La Maglia dell'Udinese. E la squadra del Salernitana. Sapete che cosa mi ricorda lo scudetto del Salernitana? Spidi Gonzales. Anche se è un cavalluccio marino. Però mi ricorda che va veloce. Allora, qua dentro c'è un giocatore della Juventus. Sì, ci ha azzeccato. Il portoghese Cancelo. Matri. Dajun. Uh. Il fin del campionato. Lorenzo Pellegrini. Uomo derby. Ma non era Riccardi l'anno scorso? Vabbè. E infine la squadra del Fiorentina. Qua dentro c'è un giocatore del Lazio. Immobile. Barella. Che è nato il 7 febbraio come mia cugina. Mario Rui. Lopez. L'allenatore dell'Atalanta. E tre giocatori del Palermo. Questa è la terza e ultima. Allora, qua dentro secondo me c'è... Un giocatore della Serie B. Del Benevento. Alla fine. De Silvestri. Milinkovic Savic. Contra. Tre giocatori del Benezio. E la squadra femminile del Sassuolo. Nella penultima bustina crederei che... Credo che ci sia un giocatore del Genova. Del Genova. Maglio sempre dico Genova. Devo dire Genova. Non è un giocatore del Genova, ma della Samp. Ed è Anderson. Perin. Meite. Tre giocatori del Carpi. Sabbione. Pacionic. E Sauger. Belli, eh? Crotone. Lo scudetto del Crotone e della Foggia. Ora, qua direi che c'è dentro un giocatore della Roma. Non Totti. Purtroppo. Paloschi, che ha giocato al Swansea. Anzi. William Troust Eong. O Poku. Due giocatori dell'Udinese. Due. Doppio. Tanti premi tutti i giorni. E l'Allianz Stadium, che se mi ricordo bene ce l'ho. E infine troviamo Lukasz, no, Lukasz Skorupski, del Bologno. Mi piace quelle L che usano i polacchi. Se mi sbaglio la usano anche gli islandesi. Per ora è tutto. Ryan Baccali vi saluta. E mettete like su e iscrivetevi al canale qua sotto. Ciao!